Stava pescando tranquillo sulla riva del fiume Adelaide in Australia quando all'improvviso un grosso coccodrillo albino è uscito dalle acque e lo ha attaccato divorandolo. Il pescatore 57enne si trovava con la moglie sul bordo del fiume. Era entrato in acqua per sistemare la lenza della sua canna da pesca che si era impigliata quando il coccodrillo conosciuto come Michael Jackson lo ha aggredito. Un attimo che si è rivelato fatale. Le autorità a corso sul posto hanno sparato al raro coccodrillo albino recuperando poi il corpo della vittima.